Il mercato internazionale dell'acciaio sta attraversando una fase di rallentamento soprattutto nella domanda. Come pensa che l'industria siderugica possa reagire? Ciò che si tratta di un'azienda con i nuovi opportunità. Il nostro corso è diverso da un'azienda di più altra. Ciò che abbiamo visto prima, ciò che si tratta di un'azienda di risposta. Ciò che si tratta di un'azienda di prodotti e ciò che si tratta di un'azienda di risposta Il sistema europeo di salvaguardia ha posto un limite importante alle importazioni in Europa e in Italia. Che impatto ha sulla vostra attività? Grazie a tutti. Stiamo ancora con noi, abbiamo una relazione lunga termine con loro, pensiamo che potremmo ancora distribuirli con i materiali stili che necessitano per la produzione. Avete recentemente annunciato transizioni commerciali di prodotti siderurgici utilizzando la tecnologia della blockchain. Quali sviluppi potrebbe avere la digitalizzazione del commercio dell'acciaio? Sì, stiamo in l'inizio del progetto dell'acciaio del progetto della blockchain, sia in cui la costumazione della blockchain e in il costumazione del cliente. Quindi, è sicuramente tommo chi si può essere il prodotto dell'acciaio, ma questo è sicuramente il modo in cui la compagno è in cui la industria è in cui la industria è in cui la industria è in cui la industria. del processo di produzione, del processo di produzione e del processo di servizio di clienti. Quindi non è una sorpresa che una firma come MetInvest si mette in un progetto di blockchain in sua città di produzione. Come avranno le vostre attività in Italia? State pianificando ulteriori sviluppi? Abbiamo due meravigliose mille in Italia. Uno è il Stato di Arden, San Giorgio di Nagaro, che stiamo sviluppando con i nostri servizi per i nostri clienti. Alcune volta abbiamo creato una nuova scottolastica e l'impianto line. Ora abbiamo creato speciali facili, che possono pre-cut i nostri clienti per i nostri clienti. In il Verona regione, il Ferrero, il cedro mille, abbiamo anche guardato la possibilità di modernizzazione dell'azistica planta, che possono anche fare un'azistica di circa 30% in hot rod coi. Quindi siamo molto ottimisti in termini di fare l'Italiano. L'Italia è un buon mercato, abbiamo molto buoni clienti qui, per cui siamo pronti per fare il nostro processo, per fare il nostro servizio e per investire in sviluppo di prodotti.